Piano, ma scendiamo Molto piano No way Cioè guarda che costruzione abbiamo dovuto fare per scendere Boh raga, abbiamo costruito una roba enorme per scendere E a quanto pare funziona Ragazzi vi ricordo che per qualsiasi gioco scontato Se avete bisogno delle Playstation Card Oppure dei pacchetti di Fortnite Potete trovare qua sotto in descrizione il link di Instant Gaming Per comprare qualsiasi cosa ed avere anche un ottimo sconto Allora ragazzi oggi voglio provare una cosa che vi sto in un video Per andare letteralmente sotto la mappa La nuova mappa di questa season 3 Per scoprire tutte le cose che ci sono sott'acqua E se ci riusciamo ragazzi voi dovete assolutamente lasciare un like Utilizzare il mio codice creatore LOSAMIGOS Perché dobbiamo aumentare, dobbiamo essere di più Sempre più amichitos con il codice creatore LOSAMIGOS Dopodiché se ci riusciamo vi facciamo a vedere quello che abbiamo trovato Ovviamente l'abbiamo fatto in parco giochi Perché non posso mettermi in pubblica a fare certi glitch No 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 Quindi direi di partire Mettetevi super super comodi Prendete la vostra Coca-Cola Popcorn Ed ora si come sempre Let's go Ci stiamo provando eh Ce l'abbiamo visto e vogliamo provare a vedere se funziona o funziona Per andare giù Siamo qua da mezz'ora Non va a fanno Spingi 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 Eccolo Oh oh Guarda cosa è entrato Forse era in legno Mi sa che il mattone blocca Vabbè stiamo andando giù eh Sì sì stiamo scendendo Stiamo scendendo Vai 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 Stiamo scendendo Piano Ma scendiamo Molto piano Vai 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 Spingi Non so come facciamo a respirare tutto sto tempo sott'acqua Ma stiamo scendendo Ok ok stiamo andando giù Stiamo andando giù Ok ok Vai vai che siamo al Uno due Stiamo entrando al terzo livello Ci siamo? Dici? Dici che stiamo avanzando Stiamo scendendo Quanti piani sono? No Ah Ah No 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 Così poco Così poco Vabbè ma è già tutto costruito Madonna quanto stiamo andando giù Stiamo andando giù Oh 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 Mio Dio No We Stiamo usando la mappa di porta No We Oh Dove C'è lo squalo Lo squalo No We Ma possiamo anche camminare Fai vedere Scendi Scendo io Sì 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 puoi Sali sali che ti porto Oh Mio Dio Non basta No way Funziona Oh My Gosh Guarda questi Anche questi c'erano No way Cioè guarda che costruzione abbiamo dovuto fare Per scendere Vediamo se c'è qualche chest Qualcosa di speciale qua No 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 Ah 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 Lol Eravamo giù Eravamo giù Mi sarebbe piaciuto fare un giro più lungo Ma eravamo giù Boh raga Eh Abbiamo costruito una roba enorme Per scendere E A quanto pare Funziona Io Però andrei a falseggiare Con una bella partita in pubblica E magari vi spieghiamo un po' Alle cose Beh raga avete visto un po' come Cioè Cosa abbiamo visto sotto E c'erano due test Sicuramente Cioè se volete provare Esplorare Troverete Tante cose Secondo me interessanti Però ora Boh mi butto qua Perché sono curioso di vedere Ah Quella zona lì Stattate mi sono buttato male Se c'è qualcosa E poi ripuliamo la mappa E ci vinciamo la partita Dove è andato Zen Si è andato direttamente a sabbia Mamma raga Eravamo là sotto Là sotto Aia Oh my god Vuoi venire giù Ah Ci stavo per morire Easy Ci stavo per morire Ma easy Traccato uno Vado sopra Vado sopra Lol Traccato l'altro Ma c'è lì sotto È one shot uno Locato Andato Sono troppo forte Troppo forte Sono 14 Questo è stravinta È stravinta ragazzi È nostro È nostro Se Geno muore di nuovo Devo rianimarlo È lì dura Zenocchiolino Bro Non c'è gente Non c'è gente Non c'è gente Non c'è gente Dov'è la gente? Siamo in 13 Dov'è? C'è un'altra barca lì Ok li ho visti Sono là Tranquillo Tranquillo Non push Sono da una parte Sostra Ok li ho visti Li vorrei prenderlo dietro Se non mi vedono Non mi visto Sì ma sono dei caramelitos Caramelitos Lancio grain Nade Nades No Uff Stavo morendo Oh ne ho preso uno 99 Oltre Nades De mia Ho preso un altro Morto Posto Issi Issi Non lo so Eh la madò Nades ci ha fatto vincere la partita Siamo in pochissimi Che partita Più Beh Beh 5 Dai siamo in 6 Seriamente Beh Beh No Calata 1 Buon 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 70 72 Una morta L'altro lì Lì dentro l'altro Non sta bene Wow 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 L'altro è dietro vero? Sì Ma tu l'hai ucciso l'altro? No Uno sì 105 Ho preso quello là Buon Buon Ma siamo in quattro Sono gli ultimi due Sarà morto Comunque dietro Quest'albero di SO Misere materiale Ce n'è un botto lì Ce n'è un botto lì Lo vado a prendere Anche se ci pushano No No Oh mio Dio Faccio il chagg Hai mezzo per me? Eh sì 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 Vieni qua Hai mini shield Ho lo shield Ne mezzo Ok me li dà Eh lanci granate Quello Paddo paddo Vieni qua giopro Vieni qua sinistra L'ho crackato con le nighron L'ho crackato con le nighron Stiamo a 2v2 Stiamo a 2v1 Ok Tiri tiri No no Anche io Ma quello che mi hai dato Su questo che ci mettevano secondi L'hai rianimato L'hai rianimato l'altro Ma come l'hai rianimato? L'hai rianimato l'altro Ma come l'hai rianimato? L'hai rianimato l'altro Ma sì L'hai rianimato Vuoi chag? Tieni L'hai rianimato l'altro Si rianimato l'altro Si rianimato l'altro Aspettiamo Io ho 0 a mezzo Anche io Eh no Non l'hai rianimato Vieni qua Ma che cavolo stai dicendo Non so Allora uno di vita Uno l'ho messo per salire Quindi Vai qua Vai qua Adesso con lui va Non l'ho messo Non l'ho messo per salire Eh oh Craccato O perlomeno L'ho fatto È lì Mi devi romperci Ok una di vita Una di vita Una di vita Si piccona Si piccona Se vuoi Posso ucciderlo Uccido? Piccona è da te ma continua a salire quello buona vita dai va succediamo oh è morto vabbè partita sgrausa ragazzi ma l'importante di oggi è che vi volevo far vedere che effettivamente quella roba lì funziona e si può andare sotto la mappa non so quanto è che l'hai fatto ma ragazzi sono morti tutti ci ho fatto solo 7 kills ma neanche comunque ragazzi noi ci vediamo domani con un altro video sempre qua sul canale ciao zen ciao a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao